...mediterraneo e studi politeisti, ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan Otto Marghera e l'indirizzo dell'istituto mediterraneo e studi politeisti, carriera postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che sono meccanico, aprendista stregone, guardiano dell'anticristo e noi, quello che noi parliamo è la federazione pagana, sono tutte le idee relative alla federazione pagana e vi ricordo che queste idee vengono diffuse attraverso radio ormai da quasi dieci anni, sono dieci anni che ogni giovedì trasmettiamo attraverso i microfoni della radio e diffondiamo questo modo di essere, questo modo di pensare, che si sta diffondendo un po' dappertutto. Quello che mi preme iniziare la trasmissione di oggi è un argomento centrale, visto le direttive del governo, i direttivi del governo sono quelli di parlare, di dare il massimo evento, di adeguare la trasmissione all'evento, c'è la morte di Voetila, naturalmente noi ci adeguiamo all'evento e anziché parlare degli dei e dei miti parleremo di questo personaggio e dell'orrore che questo personaggio ha seminato nel corso della sua esistenza e in funzione di un'organizzazione ben precisa e di interessi ben precisi. Per parlare di questo personaggio prima di tutto farò una breve introduzione con un nome fitizio, Marco Ceolin o Gilberto Bragalin da Bevilacqua, perché bisogna fare i confronti per sapere che con Bragalin da Bevilacqua, scusate il nome di fantasia, si può avere un atteggiamento con Voetila a capo dell'organizzazione cattolica non si può avere lo stesso atteggiamento che si ha con Bragalin Bevilacqua e di questo ne spiegheremo. Io c'ho un'altra cosa però prima di questo Francesco, ricordami questa cosa che devo partire per fare il discorso, perché tutto si silenzia, tutto è sparito, tutto è annullato, ma oh Fioi, ieri il Senato ha votato la Costituzione Europea, non so se mi spiego, cioè la Costituzione Europea che è praticamente la guida di quelle che sono le nostre scelte, ieri è sparita dalle informazioni. Hai qualche informazione Francesco? No, guarda, io la signora Stampa non l'ho ancora vista, però appunto sono tante le notizie che spariscono. La Costituzione è la base di ogni sistema giuritico, lo so, in Italia ormai esistono tutta una serie di strutture mafiose che si stanno impadronendo delle istituzioni in maniera veramente squalida, assassina, criminale e purtroppo queste strutture mafiose hanno la complicità anche di molti magistrati. Io ho un paio di fatti sotto mano che mi hanno un po' lasciato rabbrividire, è chiaro che non ho una polizia segreta per cui devo affidarmi a quelle che sono le notizie che si diffondono, però chiaramente ho effettivamente una cosa estremamente grave. Ebbene, la Costituzione Europea che sarà la Costituzione guida anche di tutte le Costituzioni nazionali europee per l'Italia è stata approvata ieri dal Senato della Repubblica. Significa che è stata approvata dalla Camera, è stata approvata dal Senato, va alla firma del Presidente della Repubblica e se non mi sbaglio nel 2006 entra in vigore. Oh fioi, la Costituzione è! Sparita! Silenzio, assoluto! Non si sa niente! È una cosa veramente allucinante. Beh, come non si sa niente del discorso che dopo quasi 22 anni si è chiuso il discorso del fallimento del Banco Ambrosiano Veneto e stranamente all'Assemblea fallimentare di chiusura erano presenti 100 banche e mancava soltanto lo IOR. Il Sole 24 Ore è ricordato che nel 1984, 1984, 21 anni fa, il Vaticano ha versato alle banche coinvolte nel fallimento, fonte del Sole 24 Ore, oltre 250 milioni di dollari. Tra l'altro tra i creditori del Banco Ambrosiano Veneto c'era lo IOR che non si è presentato all'Assemblea fallimentare di chiusura e di conseguenza non incassa niente. Volete a non incassare niente? Nel 1984, 22 anni fa quasi, ha tirato fuori 200, oltre 250 milioni di dollari per pagare il coinvolgimento morale nel fallimento. Fate un po' voi. Notizia e apparsa. Solo 24 Ore è una pagina affari finanza. Coinvolgimento morale, cosa significa? Significa che ci sono delle responsabilità morali anche se non sono materiali. Partecipazione. Questo farà anche un motivo per cui parleremo anche di voi tira dopo. Per cui, ricordatevi, la Costituzione è stata approvata dal Senato ieri, nessuno ne ha parlato. Fate un po' voi. Lasciamo qui il discorso. Per me è una roba che mi lascia allucinato. E Claudio, bisogna sempre ricordare quella frase di Nietzsche che diceva «Occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono la bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono». Sì, sì, non mentono e basta. Ecco, Nietzsche sottolinea e mette proprio in corsivo il mentore, il mentire. Allora, cominciamo a parlare di sto Ceolin di Bevilacqua. Ceolin, Bevilacqua, è naturalmente un nome di fantasia, tanto per dire una persona popolare, no? Cioè, proprio una scena della persona popolare. Ceolin, Bevilacqua, è stato un grandissimo figlio di putana, un ladro, un bandito, ha massacrato i botte della moglie, ha violentato i figli, ne ha fatte di cotte di crude. Ceolin, Bevilacqua, muore, muore e si può fare un necrologio. La famiglia piange lo scomparso. Lo si può fare perché Ceolin, Bevilacqua, in fondo, era un disgraziato. Morto il disgraziato, tutti i suoi reati, cioè tutte le sue malvagità, si estinguono. Per cui non ci interessa più andare alla ricerca di una vendetta a postuma, anche perché, tutto sommato, le persone offese hanno avuto la soddisfazione dell'offesa ricevuta proprio dalla sua morte. Pertanto, non ci interessa andare a ricordare più di tanto, se non come memoria storica, se non come ricordo, se non come ricordiamoci cosa è successo, affinché non accada più. Cioè, non ci interessa andare a bastonare il Ceolin, Bevilacqua, o la persona qualunque, insomma, che ha fatto quelle cose. Diverso, invece, è il discorso quando parliamo di un personaggio, di una figura, che ha fatto delle cose, cioè è responsabile, morale, dice Francesco, ma in realtà è qualcosa di più morale, lo ha dimostrato Giovanni XXIII, Giovanni XXIII che ha mandato via quella bolla attraverso la quale scomunicava tutti quelli che denunciavano l'attività dei preti pedofili. Ed è di una gravità infame, veramente, la cosa. Naturalmente è fatto santo, lo faranno beato e lo faranno santo. Cioè, non c'è problemi. Il sistema per fare santi nella Chiesa Cattolica bisogna aver distrutto gli esseri umani, bisogna aver macellato gli esseri umani, bisogna aver costretto gli esseri umani in ginocchio a maggior gloria di quel criminale assassino che è il Dio padrone dei cristiani. C'è un'immagine che è crudele, che è assassina, che è miserabile, proprio a maggior gloria del Dio padrone. Io vi posso anche leggere proprio a cosa servono le missioni, anche in un testo abbastanza che ho qui anche sotto mano, proprio per distruggere la capacità degli uomini di costruire la loro vita e la loro esistenza. Pertanto, quando noi parliamo di Voitila, non è che possiamo parlare come parleremo di Ceolini, perché Voitila è l'incarnazione, è la figura rappresentante, è la figura chiave di tutta la Chiesa Cattolica. Cioè, ogni delitto commesso dalla Chiesa Cattolica a sua maggior gloria è imputabile moralmente a Voitila. Cioè, la partecipazione morale non è un reato che si dà solo al disgraziato e che non si può difendere. Nel nostro codice, nella nostra Costituzione, ogni persona è uguale sottoposta alla legge. Pertanto, anche il nostro sistema di giudizio, anche il nostro sistema di pensiero, deve essere coerente a quello che è la nostra Costituzione. Cioè, la nostra Costituzione che ci dice come noi dobbiamo rapportarci con le cose. Pertanto, Voitila è responsabile di tutte le malvagità e di tutte le porcate fatte dalla Chiesa Cattolica. Ma ancora di più, perché questo è un atteggiamento anticlericale. Cioè, un anticlericale si esprimerebbe in questo modo. In realtà, Voitila è responsabile di aver macellato l'umanità attraverso il diluvio universale. È responsabile di aver macellato Sodoma e Gomorra. È responsabile di tutti i delitti che si imputano al suo dio padrone. Perché di quei delitti lui ne ha assunto la responsabilità morale proprio da quando è diventato Papa. Esattamente come ce l'assume la responsabilità morale il suo successore. Questi delitti sono delitti atroci. Sono delitti di genocidio. Sono delitti di una gravità immane. E noi, quando pensiamo a questo personaggio, dobbiamo partire da questo punto di vista. Comunque, io non so se Francesco tu hai qualche rassegna stampa o qualche informazione da aggiungere. Però io ho due o tre notizie giornalistiche degli ultimissimi giorni. Perché, tipo il caso di Voitila, se ne voglio tirare fuori, io ho una rassegna stampa accurata di dieci anni. E in più ho i cd della Repubblica che vanno di altri vent'anni. Per cui tutte le porcate, tutte le infamità che ha fatto Voitila con la sua congrega di assassini e di criminali. Perché ricordatevi che mettere in ginocchio i bambini a pregare significa costringere dei bambini ad essere stuprati. Significa stuprare i bambini. Significa stuprare la loro mente. Significa stuprare la loro capacità critica. Significa stuprare la loro capacità di dare l'assalto al cielo. Di dare l'assalto alla conoscenza. E Voitila è responsabile di stupro dell'umanità. Proprio perché, ed è ancora più responsabile, perché organizzazioni mafiose non hanno obbedito al dettato costituzionale costringendo Voitila a mantenere le sue preposizioni, le sue affermazioni, le sue asserzioni all'interno della propria religione, della propria fede. Ma alcune strutture criminali hanno consentito che questa azione criminale di Voitila che è la sua fede, il suo modo di pensare e di vedere il mondo venissero imposte a settori sociali. Per esempio venisse esposto il crocefisso nelle scuole. Un atto criminale, un atto terrorista, infinitamente più grande che non l'uccisione di Aldomoro. E se volete denunciarmi fatevelo pure, che lo posso dimostrare in qualsiasi tribunale. Sporre il crocefisso nelle scuole è il maggior atto di terrorismo sociale che viene compiuto. È chiaro? Ed è terrorismo, ed è vergognoso vedere i magistrati che vendono il culo come puttane e non perseguono questo reato gravissimo. Sembra quasi che ne siano complici. Come se non si sapesse. No, io voglio aggiungere una cosa che Voitila è giustamente stato un grande Papa perché è stato il più attento nell'attuare la predicazione cristiana. Cioè nel senso che i comportamenti, le azioni, tutto quello che è stato fatto non è stato fatto per una sua malattia, per una sua deformazione, per un suo disagio, per un suo dispiacerello. L'ha fatto applicando alla minima lettera quello che appunto è l'insegnamento cristiano. Cioè logicamente l'insegnamento cristiano, la predicazione di Cristo, le parole di Cristo sono incentrate su cosa? Sul portare violenza. Giustamente proprio un libro che è uscito recentemente dice quando c'era di guerra il Dio del cristianesimo occidentale balza in primo piano. Perché? Perché l'insegnamento di Cristo porta a questo. Ecco, c'è una cosa che è caratteristica, dice tutte le scene della predicazione cristiana sono scene di orrore. E basta pensare appunto partendo, dice da una citazione anche biblica dell'Apocalisse, altre scene di orrore, uccelli inviati a mangiare le carni di tutti gli uomini, libri, schiavi, piccoli e grandi. Questo è un esempio, un capoverso dell'Apocalisse. E appunto il bravo Vuitila è stato non un artefice, ma è stato un continuatore della tradizione cristiana che parte dall'insegnamento di Cristo. L'insegnamento di Cristo è sempre un insegnamento violento, è sempre un insegnamento di imposizione di violenza fatto in tutte quante le caratteristiche. Io vorrei anche leggere una frase, sì, che disse chiaramente è necessario riconoscere la verità storica e psicologica, altrimenti l'ipocrisia annidata al fondo del cristianesimo manterrà i suoi credenti ignari dell'ira dell'agnello, in cui ripongono la loro fiducia. Soltanto una contrita presa di coscienza dell'ipocrisia del cristianesimo sul tema della pace e della guerra potrebbe dar via a una nuova era, a una nuova riforma atta a liberare la regione monoteistica dalle sue radici nella guerra e la guerra dalle sue radici nel monoteismo. Considerando sempre un'altra citazione di questo libro, dice il richiamo a svegliarsi, rimane inascoltato e così la maggior parte degli uomini conduce una vita di silenziosa disperazione. Perché? Semplicemente perché la loro fede è semplicistica. La maggior parte delle persone, la stragrande maggioranza, anzi tutti, tutti noi siamo cristiani dalla testa ai piedi, completamente immersi nella speranza, inconsciamente siamo lasciati di convertire all'illusione della speranza. Ma la speranza si trasforma in ciò che essa copre nella sua fedele compagna notturna, la disperazione. E a noi hanno insegnato, incandandoci soltanto la metà superiore di questa verità. In alto i cuori sta per nascere un nuovo giorno. Questo è un testo che dice chiaramente che il monoteismo, tutto il monoteismo, e lui dice chiaramente, mi riferisco soprattutto a quello cristiano occidentale, perché noi viviamo in quello, e quella è la nostra realtà. Gli altri non ci raggiungono, non sono modellati nella nostra società, sono dannosi. E qua chiaramente si parla di caratteristica dell'orrore e della disperazione che il cristianesimo porta a tutti gli uomini, e dell'atrocità e dell'ira dell'agnello che è presente nella religione cristiana. Il richiamo che viene fatto continuamente a Papa Votila come artefice della pace, significa che soltanto loro hanno diritto di combattere la guerra, e solo che la loro guerra è giusta, gli altri non possono combattere, gli altri devono arrendersi, gli altri devono essere tranquille, pecorelle, portate all'oville. Per sottolineare quello che dice Francesco, io vi leggo questo passo. In passato il principe cristiano Enrico aveva fatto uccidere il principe pagano Cruto, e quindi, con l'appoggio danese e tedesco, aveva ripreso il regno degli abbodriti, ingrandendolo molto e facendo della sua residenza Alta Lubecca, a nord-est della città odierna, il centro di un regno slavo cristiano. Ma nel 1127, dopo l'uccisione di Enrico, tutto questo crollò rapidamente, anche perché i suoi figli e nipoti perirono, uno dopo l'altro, nello stesso modo, vittime di attentati. Ma nel 1134, Vicellino, si guadagnava il favore dell'imperatore, San Vicellino, sottolineo, dell'imperatore Lotario. Questi fece allora costruire, presso Segeberg, a est della trave, una fondazione canonica, e la trasferì a Vicellino insieme ad una fortezza. Attenzione, durante la costruzione della fortezza, uno slavo, che osservava, domandò delle fortificazioni che si stavano erigendo qui, nella quiete. Qui si edifica un gioco per tutta la regione, fu la risposta di un principe slavo. Muovendo da questa base, si espugneranno prima Plon, poi Oldenburg e Lubecca, si varcherà infine la trave e si conquisterà Ratsenburg con tutta la Pomerania. Ma anche il paese degli Ottobriti non sfuggirà alle loro mani. E quando l'altro indaga sulla causa di tale sventura, il principe dice «Vedi quel piccolo cranio calvo che sta a fianco del re? Quello ha portato su noi tutti la sventura». La testa pelata era quella del missionario Vicellino, l'apostolo degli Slavi. Regolarmente, infatti, il potere politico si coniugava con l'impresa missionaria della cristianizzazione e viceversa. Cioè, questo serve la missione, i missionari. Serve a distruggere gli uomini, a distruggere la vita degli uomini e naturalmente si coniugano con i vari poteri, con le varie destabilizzazioni sociali. Facciamo un salto nell'attualità. Si parte con una citazione. Ho letto il libro dell'Apocalisse e si credo che il mondo finirà. Per qualche grande catastrofe naturale, voglio sperare, ma ogni giorno penso che il tempo stia per scadere. Questo lo disse l'ex-cretario della difesa Weisenberg. L'uomo che deteneva nel 1982 il controllo del nostro arsenal di armi e di situazioni di massa. Non so su quante generazioni possiamo contare ancora. Prima del ritorno del Signore, disse il ministro degli interni di Reagan, e il presidente stesso ebbe a dire, a volte penso che in questo momento stiamo muovendo molto rapidamente verso l'Armageddon. Anche i presidenti Carter, Clinton e Bush sono tutti ferventi seguenti della fede cristiana. pregano, vanno in chiesa e legano la Bibbia. Poi vedremo come gli americani hanno criticato Bush, cioè hanno criticato Voitila, scusate. Francesco, mi dai tre minuti di più? Sì, vai, vai pure. Bene, vi ha letto Francesco quell'autorità? Io prima vi ho letto... E voglio consigliarlo a tutti, è il libro di James Hillman, Un terribile amore per la guerra, che Hillman stesso definisce in una parte del suo libro, fa attacco al cristianesimo. Tanto per essere... Fate un po' voi. Però, io vi ho letto un pezzo di storia criminale del cristianesimo sulla questione degli slavi. Una notizia quotidiana, tutto sommato. Francesco vi ha letto l'attualità di Hillman e di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Poi vi leggerò qualcosa altro. Però, bisogna risalire anche all'origine di questo. Sapete che noi imputiamo questo ai Vangeli. Perché? Perché noi sosteniamo che i Vangeli sono solo delle pure semplici operazioni politiche. Operazioni di dominio fatte all'interno di un piccolo gruppo che poi si sono estese e hanno funzionato anche su larga scala, chiaramente, con i dovuti aggiornamenti. Che la figura di Cristo non sia mai esistita, questo lo affermiamo in assoluto perché non è mai esistita. Chiaramente noi, come persone religiose, come apprendisti di stragoni, sappiamo che non è mai esistita. Chiaramente gli studiosi possono sempre ci gischionare, cioè dire sì, ma forse sa, non si sa bene. Ebbene, io vi leggo questa lettera, che è apparsa sulla lettera con la risposta, che è apparsa sulla Repubblica del 29 marzo 2005. E la risposta a questa lettera è di Augas, Corrado Augas. Mica l'ho scritta io sta risposta, eh. Allora, il codice da Vinci tra realtà e finccio, si intitola l'articolo. Caro Augas, dice chi scrive ad Augas, si chiama Luca del Pozzo, chi scrive ad Augas, dice Caro Augas, se vogliamo dire la verità sul romanzo codice da Vinci, dobbiamo ammettere che il libro di Dan Brown si smentisce da solo. La storia termina con una specie di rivelazione secondo cui l'ultima discendente della dinastia regale che ebbe inizio dai nozzi tra Gesù e Maddalena sarebbe la protagonista del romanzo stesso, la giovane figlia del custode del Louvre che accompagna lo studioso americano nelle sue peripezie. Se davvero Dan Brown aveva in mente di riscrivere seppur in modo romanzesco la storia della Chiesa a luce della leggenda del Graal, francamente, poteva fare di meglio. Un'altra considerazione, a proposito di quanto lei ha scritto, Caro Augas, sui quattro Vangeli canonici, non è vero che nessuno degli evangelisti era stato testimone diretto dei fatti, forse dimentica che dei quattro evangelisti, Matteo e Giovanni, facevano parte del gruppo dei dodici apostoli che vissero come Gesù negli anni della sua vita pubblica, come peraltro è testimoniato anche dei Vangeli cosiddetti apogrifi. Almeno su questo non facciamo confusione, ce n'è già troppa in giro. A questa lettera di questo signor Luca del Pozzo risponde Augas e dice Il romanzo di Brown mi è sembrato mediocre, soprattutto per la scrittura, abile però nella sceneggiatura, abilissimo di aver colto il momento in cui un'antica leggenda avrebbe potuto rivivere nell'attuale atmosfera di religiosità diffusa e imprecisa. Per quanto riguarda i Vangeli, da anni gli studiosi sono quasi unanimi nel ritenere che non furono scritti durante la vita di Gesù né i tre sinottici, Marco, Luca, Matteo, né quello attribuito a Giovanni, autore, di cui in realtà non si sa nulla, anche se tra i quattro sembra il più esatto storicamente. A chi volesse approfondire consiglio al recente volume Le parole dimenticate di Gesù a cura del professor Mauro Pesce, Lorenzo Valla Mondadori. Un saggio costato anni di ricerche, la maggior parte degli specialisti, Pesce insegna storia del cristianesimo a Bologna, ritengono che gli autori che hanno scritto i Vangeli non siano stati testimoni dei fatti, ma persone della generazione successiva a quelle dei discepoli storici di Gesù, che hanno scritto spesso sulla base di altre opere o informazioni orali che cercavano di divagliare, come fa ad esempio l'autore del Vangelo di Luca. In particolare il Vangelo di Giovanni è stato scritto diverse volte. L'autore, nell'ultima redazione, dice di basarsi sulla testimonianza scritta, evidentemente perduta, del discepolo amato da Gesù, un discepolo senza nome, a cui la tradizione assegna il nome di Giovanni, ma che secondo altri potrebbe invece essere Lazzaro. Chi ha scritto il Vangelo di Luca conosceva diversi Vangeli scritti, tra cui anche il Vangelo di Marco, ma non li considerava veramente sicuri, altrimenti non si sarebbe preoccupato di scriverne un altro verso gli anni 70-80 del primo secolo. Questo lo stato delle indagini sul piano storico e filologico. Trattandosi di testi sacri esistono poi interpretazioni ed esegesi secondo i canoni della fede che riguarda evidentemente solo chi di quella fede partecipa. Sempre sul piano storico bisogna infine ricordare che i quattro Vangeli ufficiali vennero scelti a maggioranza fra i molti allora in circolazione durante il concilio-congresso di Licea nel 325. Per cui, detto questo, che lo dice Augas, non lo diciamo noi, si tratta di tre operazioni politiche che servivano per distruggere i sistemi sociali e che hanno avuto il loro apogeo proprio in questo secolo. Sì, beh, la falsità è sempre stata incentrata sulla volontà di controllare, di reperimere, di sottomettere. Per cui, già questo vuol dire un truffatore. Ma tutta la Chiesa, tutti i teologi sono dei truffatori, dell'ingannatore, della manzogna. Da sempre tutti quanti i cristiani che hanno combattuto perché la loro religione sia storica hanno detto una menzogna, una falsità. E rientra nella meccanica delle cose, rientra nella volontà di ingannare, rientra nella volontà di essere incapaci di sostenere qualcosa che sia una propria idea perché gli si deve dare una continuità storica, una profondità che non esiste. Tutta questa volontà di imporre agli altri il credere, l'avere fede, l'accettare anche se è assurdo, è sempre utilizzato, finalizzato proprio per annientare le persone. Non è una grande idea che si propone, che fornisce delle interpretazioni, delle visioni o che dà delle immagini o delle suggestioni. In realtà è la volontà di dominio, è la volontà proprio di porsi su tutto. E logicamente bisogna comprendere che non si può contestare il monoteismo facendo i laici o gli anticlericali. Per chi lo fa tutto rispetto alla considerazione. Perché giustamente come ha detto Emanuele Severino sul Corriere della Sera del 4 aprile l'ha chiamato un Papa per salvare la nave alla deriva. In realtà il cristianesimo è sempre alla deriva, è sempre mancante, ma è alla deriva, sopravvive perché noi gli diamo un minimo di credibilità, di storicità, di validità. Ma il monoteismo cristianesimo non ha nessuna validità. Se va alla deriva e prosegue va avanti è soltanto perché noi non siamo capaci di ammettere che il re è nudo, cioè nel senso che non esiste questo Cristo. E Emanuele Severino dice, fa la forza che manca al mondo laico. In realtà noi saremo in un momento in cui nell'agonia, nella fine del monoteismo assistiamo alle scene più forti e ci vorrebbe una visione diversa, una visione altra, una visione potente, capace, una visione religiosa diversa per poter affrontare le cose. Ma dice sempre, queste sono le parole di Emanuele Severino, nel mondo laico, nel frattempo non c'è stato e non c'è nulla di simile a questa forza e a questo coraggio, cioè, la cattiveria che ha avuto Carlo Voltila, che ha avuto il presente Papa, ma che ha da sempre la visione cattolica. E dice appunto, il mondo laico si trova davanti a uno stato in discesa, eppure non ha la forza di dare il colpo finale a questo. Perché? Perché anche i laici sono vincolati, zavorrati, dal credere che il Dio esista, il Dio creatore. Ed è questa la debolezza intrinseca che appunto dice la forza che manca al mondo laico che dice Emanuele Severino. Alla fine, come diceva Papini sul fallimento dell'anticlericalismo, alla fine anche l'anticlericale crede in Dio o pensa o ipotizza Dio. noi come pagani sappiamo che il Dio creatore non è mai esistito e non è mai esisterà. Sappiamo che è menzogna, invenzione e falsità. Ma bisogna avere questo coraggio di guardare di fronte a questa realtà, di ammettere come sono le cose, non perché siamo stati condizionati, legati, cercare di mantenere in piedi un cadavere che è uno zombie. E giustamente Emanuele Severino che è un filosofo in gamba dice chiaramente al mondo laico manca la forza. E la forza è quello di essere chiari, dire chiaramente viviamo in uno scontro e Emanuele per fortuna in un libro tradotto da poco appunto che è un terribile amore per la guerra ce lo dice noi dobbiamo liberarsi dalla dominazione cristiana, noi dobbiamo attaccare il cristianesimo. Infatti dice io chiamerei il mio libro e attacco il cristianesimo. Ma perché? Perché il cristianesimo è una catena, è un qualcosa che copre, è una catena che va spezzata e logicamente solo quando potremo essere liberi di muoverci in ogni direzione avremo la forza, l'energia, la possibilità di trovare qualcosa di diverso. E come dice chiaramente Severino sempre sulle della sera noi avremo una strada in discesa perché il monoteismo è a deriva e soltanto la nostra debolezza e inadeguatezza nell'affrontare la cosa che lo mantiene in piedi. se vogliamo guardare le ultime carognate fate voi ti la parte è il fatto di difendere ferocemente i preti pedofili ricordo che il Vaticano è sotto processo in almeno due tribunali degli Stati Uniti e in più è stato chiamato Voetila stesso a testimoniare durante un processo di pedofilia in Francia e la testimonianza è stata bloccata chiaramente dal Ministero degli Esteri dallo Stato francese perché Voetila è comunque un capo di Stato ma non è stata bloccata per l'incompetenza di Voetila perché Voetila era responsabile dell'attività di stupro dei bambini messi in atto da quei vescovi francesi come è responsabile dello stupro dei bambini messi in atto dai vescovi americani e il Vaticano è sotto processo per questo e viene chiamato a risarcire le vittime e vi ricordo che sono parecchie centinaia di milioni di dollari che già sono stati versati o comunque sono stati assegnati e ancora almeno un migliaio di preti americani sono sotto processo per stupro di minori e vi ricordo che lo stupro di minori è avvenuto ad opera dei preti cattolici proprio per l'imitazione di Cristo del Gesù di Naze perché il Gesù vi ricordo nei Vangeli viene arrestato con un ragazzino nudo e quel arresto di un ragazzino nudo è la giustificazione di tutti i preti di come comportarsi ed è il loro avvallo cioè loro seguono Cristo proprio nella misura in cui stuprono i bambini chiaramente non tutti i preti stuprono i bambini perché ci sono anche degli uomini fra di loro però la linea la tendenza la tendenza generale è questa e il silenziare silenziare ciò che avviene nei seminari silenziare ciò che avveniva nei orfanotrofi silenziare ciò che avveniva nelle stesse galerie negli ospedali dove i preti stupravano offendevano denigravano assalivano le persone è veramente grave e il fatto che la magistratura abbia sempre protetto questo tipo di comportamenti salvo intervenire solo là dove non poteva far a meno di intervenire è una gravità immane e il fatto stesso che gli organi di informazione stiano silenziando queste notizie significa aiutare il terrorismo nel suo sviluppo nella sua attività di devastazione dei sistemi sociali perché al fin fine questo è il nocciolo della questione cioè noi abbiamo dei principi morali ed etici che sono la nostra Costituzione e abbiamo degli interessi di potentati di altra gente che invece preferiscono applicare i dettami della Chiesa Cattolica per i loro interessi l'ospedale di Treviso impediva gli aborti Claudio sul discorso dell'ospedale io l'ho ricordato giovedì scorso che la Regione Lombardia ha appena concluso un accordo con la Chiesa Cattolica al fine di garantire ogni 250 malati un cappellano che vuol dire sottrarre soldi alla sanità e significa offendere gli ammalati significa fare atti di terrorismo ogni 250 un cappellano ogni 250 malati che significa sottoporre ad attività di terrorismo le persone siamo a livello di una gravità enorme effettivamente siamo in situazione io qui ho sotto mano ciò che dice ciò che dice Zappatero c'è appena stata una polemica qualche giorno fa fra Voitila e Zappatero Voitila ha attaccato personalmente la Spagna la Spagna